Voi non potete capire com'era bella Provvidenza. Lì dietro c'era il Bargiolli, il nostro bar. È lì che l'ho incontrato per la prima volta. Maria diceva che a Provvidenza non sarebbe mai successo niente. Ci aveva torto. Pippo, vince chi resiste, ancorato a qualcosa che forse non c'è più o vince chi va via? Vince chi resiste, vince chi crede, vince chi lotta per conservare qualcosa di forte, qualcosa di proprio bene, rifacendoci al titolo del mio film. Ho raccontato la storia di un uomo che rimane, che lotta anche con grande sofferenza, ma che crede che non ci possa essere un domani senza riappropriarsi di quello che si è stati. Il Bene Mio è anche un film che indaga su come affrontare gli smottamenti della vita, i crolli che però non sono solo i crolli fisici, vero? Sì, sono i crolli morali, sono anche le ferite che irrompono nella vita di ognuno e che ci si sforza quotidianamente di rimarginare. Elia è una persona che cerca di elaborare il lutto, che vive in un limbo di elaborazione faticosa e che cercherà di fare questo in tutti i film e di superare questa soglia immaginaria. Come hai fatto a trovare la tua provvidenza? È stata una ricerca molto difficile, ho praticamente visitato quasi tutti i paesi abbandonati da Roma e in giù, dal centro e sud Italia e poi mi sono innamorato di Abice, un vero paese fantasma vicino a Benevento, che è diventata la mia provvidenza accanto a Gravina, a Gravina di Puglia. Qual è il bene tuo? Beh, il bene mio è un po' tutto, sono i sogni che ho realizzato, che devo ancora realizzare, tutte le emozioni che mi porto dentro e che confluiscono e cerco di far confluire nel racconto. Felice di ritornare all'Ischia Film Festival? Felicissimo di ritornare all'Ischia Film Festival, ormai sono un abitué all'Ischia Film Festival, credo che sia la quarta volta, come si fa a non essere felici di tornare in questo paradiso? Ti toccherà inventare e lavorare a qualcosa da portare il prossimo anno? Anche solo per essere qui lo faccio immediatamente.